mmm ok aaaah ciao ciao cuzzolino ciao cuzzolo ciao bella ciao cucciola ma come stai tutto a posto te invece cosa dici bene dai dove sei? di como? eh sono di milano sono di milano non sai che sei caruccio come ti chiami su instagram? su instagram ti è e secondo te come mi chiamo io? boh non lo so Giorgio mi chiamo brah non sapevo brah ciao ciao posso vederti meglio in faccia cioè riesci ad avvicinare il computer? eh ecco con i pc è complicato lo so vorrei vederti più a 360 gradi eh aspetta prova ad avvicinare un po' il computer alla faccia vorrei vedere la parte dietro della testa ah ok ok si 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 così e ti abbassi fai una specie di squat mi metto così ciao 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 a tutti ciao a bambola ciao bella ma sei una porcacciona baccotta solo solo per te sono porcazzona cuzzolo ma lei è femmina comunque ma di dove sei? sono sono della sicilia conosci? come eri prima prova a fare tre giri e tre giri per che cosa? eh così ti riesco a vedere per bene a 360 che scusami ma sono cioè se vuoi eh altrimenti non fa niente tre giri veloci vai uno due e tre perfetto ehi c'è cosa fai eh? niente ragazzeggio aspetto un po' così fra un po' me ne esco e me ne faccio un aperitivo te? ci sta ci sta anche io stasera riesco per halloween mh sei di roma? si ah ci ho vissuto a roma per un bel po' ma ti sento malissimo tipo eh lo so lo so perché c'è un microfono c'è un microfono un po' del che e quindi dicevi quanti anni hai? io ne ho 29 bello bello te quanti anni mi dai invece? ma guarda te ne darei al massimo 22 ok si c'hai quasi preso c'hai quasi preso 21 21 21? ma si vabbè allora ci prendo sono bravo si sei bravo si si vede si vede c'è esperienza di dove sei? milano eh sono stata fino a poco fa a milano che studio recitazione che allora sono a roma ah molto spesso molto spesso passo a milano a roma ci ho fatto il militare tanto tempo fa e tu cosa mi racconti? niente cazzeggio ah no va bene che è il migliore in assoluto ciao che figo oppure almeno il gildo decidi no io preferivo il pelatore ma ascolta è un po che non vengo a roma e sai com'è vorrei trovare un uomo che mi porti a vederla un pochettino un uomo che mi porti a riviverla come la vivevo una volta guarda io se vuoi ti posso fare da cicerone la conosco bene ormai voglio dire 30 anni di Roma bello che dici se ci vediamo uno di questi giorni andiamo a fare un bel aperitivo in piazza di Spagna e poi un saltino alla rinascente la sera ah si allora vabbè Roma by night è pieno ma tipo se ci andiamo a fare una cenetta da Zuma conosci? si conosco, conosco diversi posti ok chiaro chiaro comunque ti ho mentito almeno a me non è Martina eh? e qual è? mi chiamo Giorgio quanti anni hai Monella? secondo te? secondo me c'è di carina comunque tredici, quattordici tredici ho capito e come vai a tredici anni? ti piacciono già i pelati? dovresti preferire ragazzi con una bella capigliatura no? dimmi se sbaglio eh dimmi se sbaglio nooo vabbè quanti anni hai tu? ehm cioè dipende io soffro di doppia personalità quando sono Vanessa mi sento molto una ventenne libera perché vuole tutto dalla vita ah oppure sono il benegildo, sono un pelato, 45 anni decidi tu fatti prima vedere in faccia hm ciao ma sei anche carino come ragazzo, perchè non ti fai vedere? non puoi vergogno e poi a me il ragazzo parte in aprile è sempre piaciuto sai che tra un mese, un mese e mezzo vengo a Napoli mi porti a fare un giro? eh no io sono siciliano e che ne vengo in Sicilia dove dovrei venire? a Catania o Palermo? Siracusa sai conoscevo un ragazzo, il mio, non il mio ex, il mio ex ex è siciliano, si è e di dove? eh era di Catania niente l'avevo conosciuto suo amico tra l'altro io ci passo un po' di tempo ogni tanto e te come mai sei qua? ma così gira un po' e tu come mai? è da un po' di tempo che sto cercando un ragazzo e nella mia provincia non c'è mai nessuno cioè io vivo tipo in un comune che ha 3.000 abitanti neanche e anche se esci è difficile conoscere gente tutte quindi conosco suo amico, capito? ah ho capito che poi te sei anche uno dei miei prototipi di ragazzo il mio ex assomiglia un po' a te sì sì, te lo giuro di che colori hai gli occhi? azzurri fa vedere, avvicina ancora un po' il telefono mazza che belli avvicina avvicina aspetta no ma non si vedono bene, devi avvicinare tantissimo ancora di più, ancora di più ok, belli 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 mi sta simpatico il pelato ma davvero, ti piace di più? a me sta simpatica Vanessa eh più Vanessa e Ervenegildo Vanessa c'è anche Ugo se volete comunque buonasera ragazzo UGO poi c'è lui poi c'è lui ogni tanto lui dice vabbè io sto qua ho un bel mento possente e ci provo e come si chiama? come si chiama lui? mi chiama Armando e dimmi te sei fidanzato? no non sei fidanzato? mh e ora sei suo amico per un motivo vero? mh no in questo momento sono sono libera ma senti un po' se veniste a Siracusa cosa cosa mi faresti fare? eh di tutto di tutto? tipo? immagino beh non ho così tanta fantasia illuminami un po' vabbè ci sta che fai un qualcosa mh dici? vabbè se vuoi ci sta però io non te lo consiglio c'è rimasto malissimo no vabbè c'è rimasto una merda oddio oddio ora ridammi immediatamente il filtro ridammi immediatamente il filtro ciao ciao come ti chiami? Giuseppe scommetto che sei campano così no dove sei? ah però l'ho indovinato a sto punto non riesco a capire eh tu almeno riesci a capire perché io sto molto spesso in giro per l'Italia quindi prendo un po' di accendi comunque sto siciliano ma non ti riesco a vedere cioè riesci ad avvicinare un po' il telefono non so se è un mio bug ma vedo tutte le persone tipo di sono proprio appiccicato praticamente non riesco a vedere bene la fa... riesci a girare un attimo il telefono vorrei vederti più a 360 gradi no 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 ok così già meglio eh vorrei vederti più a 360 gradi cioè scusami ma sono delle mie fissazioni che ti sfido ora prova a fare tre squat aspetta cosa? perché? e per capire comunque se ci può essere un po' di di feeling no mi vergogno assai è molto due? no non mi dispiace niente va bene ciao me ce l'ho erano belli di squat amico amico gli squat mi sono piaciuti bravo molto molto bravo ciao ma che c***o rieccomi prendimi di c***o a sto punto sai una cosa? mostrami il tuo vero te ti devo fare vedere il mio vero me eh vado eh non sei pronto secondo me ciao amico